sembra libero da sinistra t'ha sparato mentre venivi qua l'orca troia che crancata della madonna è qua sotto è arrivata sì sì ma dove sono sti cecchini di me non riesco a vederlo l'ho visto a terra raga all'azzurro a terra un altro un'altra ancora uccisione una fermata no aspetta non li avevo non li ho confermo a meretti confermati te uno ne ho confermato occhio a mauro gli stai busciando andiamo mi vedo gli altri dove sono scopritemi un attimo tu spara mauro pingali fabri spingali che gli mando la macchinetta perché non me la fa usare sta macchinetta del cazzo dove pinga pinga le scale te la cesta alla macchina a terra vai fabris puscia che intanto che lo resta che adesso mauro vai 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 che arriviamo siamo dietro di te vai ve l'ho detto raga mi dovete ascoltare le idee ce le ho non mi mancano uno l'ho fatto l'altro non so dove sia e magari sono fantasmati è qua dentro si è qua dentro si sta allontrando sulla destra mauro sulla destra si sta allontando sto facendo giro largo ecco le quattro mi sa che non è da solo mauro ha detto one down vabbè